Musica Bentornati nella mia cucina Oggi vi presento un altro dolce buonissimo che è la panna cotta con salsa di cioccolato Vediamo gli ingredienti che sono Mezzo litro di panna 130 grammi di zucchero 4 fogli di olla di pesce E del cioccolato extra fondente per fare la salsa Iniziamo a preparare, io ho già messo a scaldare la panna in un pentolino insieme allo zucchero E bisogna portarlo fino a sfiorare il bollore Nel frattempo ho anche messo la colla di pesce nell'acqua fredda per sciogliersi Appena la panna raggiunge il bollore si spenge il gas Si prende la nostra colla di pesce ben strizzata La versiamo nella panna E bisogna scioglierla in maniera omogenea Quando la roba di pesce è ben sciolta Possiamo prendere la nostra panna E la versiamo in stampini in unica forma Insomma, dove mi fa più comodo A presto Adesso prendiamo i nostri stampini e manovessi in frigo per almeno un foglio pure Ehi, vedi! Grazie per avermi aspettato Eeeeeee, era d'acqua! Wow! Buonissimo! Qui c'è uno in più, eh? E' per preso Ah! Ah! Dobbiamo sapere qual è questa E' da fuori Buonissimo! E' buonissimo! Buon appetito! Ragazzi, bravo! Ma come te quanto a fanno? Fa una pancia io Senti i colleghi su youtube C'è una panetta E' piccolare E' piccolare E' piccolare E' piccolare Ecco il bel ino Far E' piccolare E' piccolare Grazie a tutti.